Il lavoro dell'attore per sviluppare l'identità e le relazioni umane, lo studio della finzione teatrale per affrontare più consapevolmente la realtà. È il progetto In altri tempi e luoghi, finanziato con fondi europei dal Comune di Napoli nell'ambito del piano locale giovani e affidato attraverso un bando pubblico all'associazione giovanile Tre Rote, che si ispira ai metodi educativi dei maestri di strada. Ogni attore deve scoprire l'immaginario personale che alimenta il suo immaginario artistico. L'attore viene utilizzato nella sua duplice funzione di attore teatrale e attore sociale. Noi speriamo che sia un momento di attivazione per i giovani che incontriamo questo corso di formazione. Partendo dall'esplorazione delle pratiche teatrali, il progetto guiderà attori e educatori a attraversare la creazione della scena non soltanto come esperienza artistica, ma anche come occasione di crescita personale. Fra i docenti, professionisti del teatro e dell'arte come Davide Iodice, Luciano Saltarelli, Marina Rippa, Roxy Indbox, Salvatore Cantalupo, Babilonia Teatri, Francesco Saponaro, Nicola Laieta, Antonello Tudisco, Marco Zezza. Il lavoro proprio di consapevolezza attraverso il movimento, quindi questo lavoro individuale ma anche collettivo di relazione, di contatto, di prossemica nello spazio e poi il lavoro emotivo attraverso il movimento. Poter tirar fuori dalle persone quello che le persone pensano di non poter esprimere, di non sapere esprimere, sia attraverso il movimento, sia attraverso la voce che è movimento, quindi attraverso anche il racconto di varie storie, insomma, sia personali che poi collettive. Il progetto, gratuito per tutti i partecipanti, partirà a novembre nel centro Asterix di San Giovanni a Teduccio e nella chiesa San Giuseppe delle Scalze a Ponte Corvo, per concludersi con azioni performative pubbliche e con uno spettacolo finale scritto coralmente sotto la guida dei docenti. Questi erano fondi importanti del piano locale giovane del 2011 che sono stati prontamente dall'amministrazione comunale messi a bando e finanziati e dopo un bando pubblico e quindi una competition dove a vincere è stato il merito siamo oggi orgogliosi come città di poter presentare il corso di formazione teatrale di Tre Rote, un'associazione che opera a San Giovanni, un'associazione che viene da un percorso educativo forte e importante della città di Napoli e che quindi intercetterà ora, grazie a questo concreto sostegno pubblico, tanti ragazzi, non soltanto della Municipalità di San Giovanni ma di tutta la città di Napoli, selezionati anche qui attraverso un bando pubblico e oggi quindi una bella giornata. Il teatro libera, libera, libera tutto.